Che sia per un tampone o per un vaccino, c'è sempre da stare in fila. Il Covid-19 è imperversa in provincia di Cosenza e l'Aspe è impegnata sui due fronti per contrastare l'avanzata del virus con lo screening sulla popolazione e la campagna vaccinale. A via degli stadi a Cosenza le due operazioni si svolgono a distanza di pochi metri. All'aperto i test molecolari sulle persone sintomatico e sui contatti di positivi, soltanto in questo drive-in, se ne seguono più di 200 al giorno. La percentuale dei positivi è elevatissima. Ieri, su 1.149 tamponi, ne sono stati riscontrati 242, il 21,1%. Cosenza, Montalto, Campana, Mantea, Paola e Rende, i comuni maggiormente interessati. Trend in crescita nell'ultimo periodo. L'incidenza settimanale dal 29 marzo al 4 aprile era di 135 casi su 100.000 abitanti, dal 5 all'11 aprile di 171, mentre dal 12 aprile al 18 è stata di 207 casi su 100.000 abitanti. È aumentato il numero di tamponi effettuati, ma anche la percentuale di casi positivi, salita dal 18 a 22%.